TASHA E FILIPPE E adesso ti faccio vedere io Ma voi siete belle Potreste trovare un amante subito con uno schiocco di dita Forse allora bisogna fare uno schiocco più forte E il sesso? Beh, ho chiuso bottega da così tanto tempo che non ricordo dove ho messo la chiave È vero che noi non siamo proprio bollenti Ma cosa credete, amiche mie? Bisogna darsi da fare Mettersi in mostra, rifarsi il necessario, è quasi un lavoro Ma esci, non lo so, vai su internet, incontra gente e devi fare uno sforzo Perché tu esci? Beh... E se non ci siamo sposati è soltanto perché io o perché... Perché non te l'ha mai chiesto? Ma anche a me l'ha mai chiesto e ci penso ancora, ci penso ancora e non ce la faccio più È per questo che voglio andare a questo cazzo di matrimonio per vedere la faccia di quella cui Philippe dirà sì Ma insomma piantatela, c'è il sole, c'è il mare, divertitevi Che succede al vostro carro? Sì, è stato molto gentile per amarti Abbiamo bisogno di un uomo per la macchina Beh, allora vi dovrò rimorchiare Io vengo con te Ditemi che sto sognando Non ci credo, è uno scherzo È lei che si sposa con Philippe?